E tu come ti chiami, Gioia? Pietro. Ah, e cos'hai fatto oggi di bello? Siamo andati a spasso. A spasso? Ma quanto sei bravo! E dove te ne sei andato? A parco. Ah, sì, allora sei andato a parco. E quindi ti sei divertito. Non parli al bambino, comunque, se ne va solo pochi mesi. Oh, non parli, cucciolo! E quando è il tuo compleanno? Niente. Hai chiesto a mamma e al papà che torta vuoi? E cos'hai chiesto per il tuo compleanno? Avrei chiesto tanti regali per il tuo compleanno. E sulla torta ci saranno tante candeline. Ah, no, diciamo poche, ecco. Non hanno neanche un anno, capito? Hai detto a mamma e al papà che torta ti piace? Non mi batte una affanculo.